Avendo elettricità non possono assolutamente aprire i freezer, va tutto a male. Tutto quello che ci serve. I tecnici della luce sperduti nelle montagne siete i miei eroi, i miei eroi. Bellissimo il tramonto, bellissima la natura, bellissimo questo fatto che dopo un'enorme pioggia c'è una visibilità incredibile. Bellissimi anche i fumi tossici della monnezza che viene incendiata, che fanno di sfondo. Ma la cosa più bella a oggi è il fatto che se entrate nella mia stanza totalmente buia, lo sentite questo flick? E c'è la luce che non va. E la città più vicina è a 20 minuti da qui. E di notte vi lascio soltanto immaginare in questa boschività che minchia si può vedere. Pensavo finissi in tragedia, invece in una riunione di cani vicini di casa, su un viale sperduto su delle montagne in Vietnam. Oggi non funziona internet, o meglio, non è che non funziona internet, non c'è proprio l'elettricità. Infatti spero di poter caricare il video. Sto seguendo la proprietaria di casa, ma non so dove stiamo andando. Ah, è come non detto. Siamo arrivati. Guarda che posticcino. Pure qui sono al buio. Sto usando questa batteria auxiliare per caricare tutto. E poi c'è da cacarsi sotto, perché vorrei soltanto farvi vedere bene dove siamo. Nel bosco. Qui la sera senza elettricità è buio, ma buio, ma buio, buio, buio. Mi sa che siamo venuti per vedere se loro avessero la corrente. A quanto pare ce ne andiamo a mani vuote, come se la corrente si potesse mettere in mano. La casa è di là, però noi continuiamo ad andare di qua. Senza elettricità non c'è nemmeno l'acqua, teoricamente. Perché viene alimentata da delle pompe. E in più non si può nemmeno cucinare. Che casino. Se vi foste persi il video dove non ho fatto niente tutto il giorno, quelle là non sono nuvole. È monnezza che viene incendiata. Ed è ovunque. Qua siamo diventati da due, siamo diventati a caricate 101. Lasciamo stare internet, ma non posso nemmeno editare il video. Perché il computer si scarica e non c'è la corrente. Che situazione. È la città più vicina e a 20 minuti da qua. In moto. Intanto qui continuiamo ad andare, ma non so minimamente dove stiamo andando. E si sta anche facendo buio. Il cielo è molto bello. Un po' di ore fa ha piovuto l'impossibile. Si è schiarito tantissimo. Situazione chill, senza internet, senza corrente, nelle montagne del Vietnam. Siamo arrivati qui a buoni 700 metri da casa e adesso stiamo ritornando indietro. Stando una passeggiata inutile, se non per godersi un po' la monto. Comunque veramente è una situazione assurda. Poi tra l'altro, avendo piovuto tantissimo, stanno facendo i lavori sulla strada che porta alla città. Sarà sicuramente tutta fangosa. Ed è una strada che, ok che adesso non c'è la corrente, ma in generale non ci sono le luci. Ed è tutta disastrata. Nel meno a dire, vabbè stai su una strada tranquilla, vai un attimo in città. Oh, cazzo. C'è bella speranza. C'è la mia moto. Però, immaginatevi se in tutto sto casino, nel bel mezzo della strada c'è un problema, qualsiasi esso sia, e non parte più. E' stato come i friarelli nel bosco di notte. Non è proprio il massimo. E insomma, quello che posso fare adesso è darvi un po' di contesto. Questo qui sarà l'80 qualcosa video. Penso l'86esimo. Il progetto è quasi finito. Come ho detto, volevo arrivare a 100 video. Comunque ho notato che di base ha molto senso fare questa cosa da un punto di vista personale, da un punto di vista di esperienze, da un punto di vista di imparare ad approcciarsi al montaggio, di imparare ad approcciarsi ai video, di superare determinate difficoltà. Però da un punto di vista invece funzionale di YouTube, per far sì che un canale vada, non mi sembra a oggi un approccio concreto. Lo poteva essere qualche anno fa, diversi anni fa, dove andavano forti i daily vlog, dove andava forte il fatto di caricare un video al giorno. Ma ormai, da quello che sto percependo, è che in tutta questa confusione di video, in tutta questa confusione di materiale, in tutta questa massa infinita di roba. A meno che non crei dei contenuti veramente pazzeschi. Che pazzeschi vuol dire diversi. Trovare sempre qualcosa che non puoi competere con gli altri. Il semplice fatto è che è diversa da quella che fanno gli altri. A meno che non si fa così, non è sostenibile. Anche perché una cosa che ho notato, provando in passato a replicare dei video che sono andati forti su altri canali, tipo, non lo so, mangio challenge, mangio sette giorni petto di pollo, che sì, non sono contenuti pazzeschi. Però mi interessava farli, volevo sperimentare, volevo dire, volevo fare. Ho la sensazione del fatto che, visto che sono contenuti, che già sono stati visti e rivisti, challenge, che sono state fatte, fatte e rifatte, non funzionano. Cioè, non funzionano ad attirare l'attenzione delle persone. Quello che funziona, di cui mi sto rendendo conto, è trovare qualcosa di unico e personale che puoi portare avanti solo tu, in quel modo lì. E voi direte, eh, come si fa a trovare questa cosa? Cercando, provando, e forse anche un po' di botta di culo. Ci sono canali che, se si vede tutto il percorso storico, sembra in qualche modo come se già sapessero tutti gli step da seguire. Altri dove, invece, è tutto confuso, però poi a un certo punto partono. Altri dove sono un po' lineari, un po' no, un po' così, un po' colì. Quello che sto capendo che vince è non fermarsi e rendere le cose estremamente personali. Provare, 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 sbagliarmi, provare e portare a termine i processi. Che vuol dire? Vuol dire che mi sono impostato di fare questo progetto e solo finisco. E come ho già detto, analizzando tutto, riparto. Però ad oggi mi è molto forte e ramificata nella mente l'idea che farete dei vlog, se non per un proprio sviluppo personale, non hanno tanto senso. Vabbè, comunque mi hanno raccattato dalla strada. Mi approfitto adesso per lavarmi i denti, che poi non si vede più una mazza. Non possiamo nemmeno andare in città a mangiare. La strada è tutta così. Siamo bloccati. Siamo qui, nelle montagne, senza corrente. Con delle luci di fortuna, sperando che le batterie non si scarichino. Mi sa che è un problema un po' di tutti. Queste sono altre case. Questa è una signora che vende cose. Non è da considerare un vero supermercato, anche perché non c'è praticamente nulla. Queste sono tutte farine varie, un po' di olio e qualche cosa in scatola. E Pepsi. Questa è la situazione. Qui stavano facendo le cipolle. Ah, il casino è che qui questi sono freezer. È ok internet, è ok tutto, ma non avendo elettricità non possono assolutamente aprire i freezer. Che se no va tutto a male. Stanno andando a ruba queste luci. Tutto quello che ci serve. Ecco, ecco un modo alternativo per pesarvi. Quanto pesa? 70 kg? No, no. Io? Ok, ok. Ok? 72. A quanto pare stiamo comprando del pollo. Che situazione. Ciao, ciao. Sei contento? Abbiamo comprato il pollo. Hai comprato il pollo, non me l'abbiamo colpo. Vamonos. Abbiamo incontrato i tecnici della luce. Inseguiti dai cani, come al solito. Dai, fate un buon lavoro, che se no i video non riesco a caricarli. Se ne vanno, dove vai? Non era questo il palo giusto. I tecnici della luce sperduti nelle montagne. Siete i miei eroi. I miei eroi. E vabbè. Qui li avevo completamente sottovalutati. Cerchione di ruota. Legnetti. E il pollo si fa. Sono troppo succube della tecnologia, a quanto pare. E poi qui c'hanno i fornelli a letto. Cioè, non c'hanno i fornelli a gas. Vabbè. Luce di emergenza. Luce di pollo. A quanto pare l'acqua va. Per il momento. Ma chi se ne f***e? Tu invece sei il mio secondo eroe. Meglio di così. Che vi devo dire? Trong l'hai con mất điện ma. Mất điện toàn khu vực ma.